Luca Lotti Grazie, grazie, me li scomputate poi questi 30 secondi l'applauso preventivo fa sempre piacere, vi ringrazio perché sento l'affetto di tutta la comunità e questo mi fa piacere, della nostra comunità, delle persone che insieme hanno fatto questo percorso e quindi che hanno iniziato questo percorso Caro Nicola, di noi non devi aver paura, noi vogliamo davvero un PD unito, davvero un PD che supera l'ultimo congresso, basta, è finito il congresso